Se noi lavoriamo bene, possiamo arrivare a chi tira le file, il loro numero uno, e smantellare tutta la rete. Senti, è inutile che continui a parlare. I buoi sono usciti dalla stalla e io devo spiegare perché a loro lì sotto. Ho trovato un riscontro d'identità al Soldier Field. È l'uomo di cui sono sulle tracce da due anni. Mi serve tempo per catturarlo vivo. Non ascolti tu! Per adesso abbiamo delle risorse alle spalle. Forse tu non le vedi, però ci sono. E ti proteggono. Ma più diventi irrazionale, più continui a fare dell'inutile rumore, più sarà difficile far salire anche te sulla scialuppa. Ora ci siamo capiti? Se c'è una possibilità di lasciare questo sasso morente, io non la sprecherò.